Che messaggio si sente di dare il sindaco quest'anno nel nome appunto di San Nicola? Un messaggio di solidarietà. San Nicola è una figura religiosa ma ha anche una valenza civile per noi. È una figura identitaria. Attorno alla figura di San Nicola si è costruita l'identità della città legata alla nostra identità, all'accoglienza, alla solidarietà e anche alla pace. Mi sento di dire che questo è un momento in cui anche il ruolo geopolitico internazionale di San Nicola che è ponte tra l'Oriente e l'Occidente, è il santo dell'ecumenismo religioso, tiene insieme popoli e religioni diverse e credo che quel ruolo sia un ruolo importante in questo momento in cui purtroppo sono oltre 300 i giorni di guerra dopo l'aggressione all'Ucraina da parte della Russia che continuano a mietere vittime, a devastare territori, a devastare città, a devastare le famiglie che vivono lì. Quindi la speranza è che grazie a San Nicola magari tra qualche giorno ci svegliamo e ascoltiamo l'annuncio che tutti speriamo che è finita la guerra e sono iniziate le trattative per la pace.